Mio fratello e io abbiamo pensato di rifarlo qui fra amici il torneo, visto che al circolo non ci vogliono più. Ma tu non esci mai da qui? No, io non esco mai. Hai visto il giornale oggi? Leggirò subito. Per il ciclo pace in terra, il giardino dei finzi continua. Non verò mai più in questo giardino. Giovedì alle 20.55.